6 maggio 1527. I Lanzi Chenecchi saccheggiano Roma. In seguito a contrasti fra l'imperatore Carlo V e il papa Clemente VII, alle truppe imperiali viene comandato l'intervento contro lo Stato Pontificio. L'assedio è molto breve e quando i Lanzi Chenecchi entrano a Roma si lasciano andare al più turpe saccheggio. Aiutate, che in nome di Dio! Che in nome di Dio! Tanto meno a difendere una città. Il papa, il papa, il papa! La situazione è disperata, vostra santità. Camillo Orsini, che difendeva Porta Torrione, è stato sopraffatto. Tedeschi, spagnoli, boemi, italiani. C'è una colonna a Ponte Molle. Federico d'Orange a Porta Pertusa e Lanzi Chenecchi di Melchiorre Frunzberga Santo Spirito. Vi sono 30.000 soldati imperiali nella città. Grazie a tutti.